Goliardi inglesi sul Breuil. Una giornata magnifica e una neve ideale hanno favorito le gare di discesa libera e discesa obbligata con cui si sono concluse le gare interuniversitarie fra gli studenti delle due rinomate università di Oxford e Cambridge. Un leone rampante sulla maglia distingue i giovani di Cambridge che si aggiudicheranno il primo posto nella classifica generale. La partenza delle Morene sotto il colle Teodulo per la gara di discesa libera vinta da Cunningham di Cambridge in tre prime 41 secondi. La gara di discesa obbligata con un dislivello di circa 200 metri è vinta da Red Dead di Oxford in un primo 10 secondi e un quinto. Grazie per la visione!